Attenzione, warning, il video che state per visionare, contiene scene di violenza estrema, insulti, blasfemie, ed ogni altro genere di orrore esistente. Il capobastone, non si assume nessuna responsabilità, per eventuali mezze seghe, che potrebbero rimanere traumatizzati, da tale visione. E siamo qua. Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene, sì, lo so, è da tanto che aspettate questo video, e bla bla bla. Ormai, le vostre menate, le conosco a memoria, e siete scontati come la direzione della merda quando si caga, ma i più svegli tra di voi, hanno subito capito che, in questo periodo, ci sono state moltissime novità sul gioco dei giochi, il top dei top, e quindi, il mio canale, si è schierato subito in prima fila, per darvi notizie fresche, sul gioco migliore di tutti i tempi. E questo, ha portato ad un rallentamento degli altri progetti, ma piano piano riusciremo a completarli tutti. Allora, adesso aprite bene il cervello, perché, vedrete di quelle cose, allucinanti, in questo video, vi dimostrerò che, anche io, ho un cuore. E non solo, sono un uomo impegnato nel sociale. Questo soggetto, è un venditore messicano, che a causa della crisi, sta fallendo. Mi sta chiedendo di aiutarlo, per recuperare delle zampe di elifante, usando questa falce, per evitare di rovinarle. La sua idea, è vendere le zampe di elifante, come cestino di caramelle, per i bambini. L'idea non è male. Purtroppo però, l'unico posto, in cui ci sono elefanti, è questa riserva protetta. Speriamo che non ci carichino in massa, altrimenti, sarà davvero difficile ammazzarli. Guardate quanto sono figo, sembro la morte. Terribile. Allora, per prima cosa, dobbiamo trovare gli elefanti. Siccome molti di voi, non sanno nemmeno cosa sono, oggi vi farò una lezione di vita, vedete questa bella fica? Ops, adesso sono due. Aga gagaga, so terribile. E adesso sono pure quattro. Ma quanto sono simpatico, potrei fare il pagliaccione, alla corte del re. Ma che dico? Il re sono io. Ma a parte le stronzate, torniamo alle cose serie. Gli elefanti, sono dei budriomi a quattro zampe, che fanno parte della categoria dei mammiferi proboscidati, cioè, dotati di proboscide. Vivono normalmente tra i 50, e i 70 anni. O almeno, questo succede quando non ci sono io, nelle vicinanze. Aga gagaga, ma che mi succede oggi? Sono troppo simpa. Comunque, stavamo dicendo che, se non ci sono io nelle vicinanze ad ammazzarli, hanno una longevità leggermente inferiore, a quella umana. Infatti, noi crepiamo intorno ai 90, 95 anni, quindi siamo praticamente lì. Ovviamente, ci sono quelli che creppano prima, quelli che creppano dopo, e quelli come me, e Riccardo Benzoni, che non sono mai morti. Lo stile di vita, e quello alimentare, incidono molto sulla mortalità umana, e animale, ma continuiamo con la lezione. Gli elefanti, sono molto aggressivi, tanto che finiscono, per caricare letteralmente, chiunque tenti di avvicinarsi al loro branco. Avete visto quante cose vi insegno? Sono meglio del National Geographic, di Focus, e persino di Piero Angela. Ma cosa volete di più da un canale simile, se non la guerra, la guerra più totale è? Vi porto pure nelle riserve protette, per farvi vedere da vicino, questi bellissimi animali. Oh, ah ah! Per tutti i lupi manai, mi ha scarventato dieci metri più indietro. Brutto cagone di un Dumbo, ti ammazzo. Vuoi il gioco duro, eh? Beccati sta lama in gola. Comunque, voglio specificare alle teste di cazzo, che sono un amante degli animali, e che tutto ciò che state vedendo, è solo pura e semplice, finzione. Lo specifico perché, molti di voi, sono così allucinati, che vivete in un mondo tutto nostro, dove scambiate la finzione, per la realtà. Guardate, avete fatto incazzare gli elefanti, maledetti bimbi minchia allucinati. Questi elefanti, hanno un chip nel cervello, che li fa aizzare contro tutti i bimbi cranio-dementi, te dirai. Capabastana, ma se gli elefanti attaccano tutti i bimbi minchia, come mai stanno attaccando anche te? Significa che sei un Nutella boy, pure tu? XD Ovviamente, questi sono animali molto intelligenti, e possiedono un olfatto molto sviluppato, perciò, devono aver sentito il profumo di Nutella. Ok, ammazzando anche questo, arriviamo a quota 16, e ce ne mancano solamente 5. Adesso li andremo a cercare. Sono sicuramente dietro questa collina, a rimpinzarsi di erba, come quei coglioni dei vegetariani, o vegani, chiamateli come volete. Naya, io non mangio la carna, perché sono una vegetariana convinta. Ma vaffanculo. Allora vai a brucare l'erba, come le capri di sgarbi. Capra, 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 ultimo. Ti ho tagliato a metà, perché mi stavi sul cazzo. Così, ogni tanto ci vuole un po' di sana violenza. Elefantini, cucù, lo so che siete qui, sto arrivando per tagliarvi la faccia. 1, 2, 3, capobastone viene da te. 4, 5, 6, capobastone ti taglia il pisei. 7, 8, 9, e, boho, non mi viene la rima, facciamo che muori, e mi rendi più semplice il compito. Madonna ragazzi, abbiamo fatto una strage pazzesca, mi sa che la protezione animali, non sarà tanto felice, per ciò che è accaduto oggi. Ma d'altronde, ci sono specie animali che vivono, altre che muoiono, eccetera eccetera. La natura è proprio una gran puttana. Certo, questa è la prima volta che, in natura, si vede un pazzo, armato di falce, che stermina 21 elefanti, in un colpo solo. Ma come ho detto poco fa, la vita è proprio imprevedibile. E con questo, siamo arrivati al numero giusto, ma tanto per essere sicuri, uccidiamo pure questo. Ok, la strage è conclusa. Porca puttana, guardate che macello. Oh my, fucking god, il capabastana, ha ucciso gli elefanta. Ammazziamolo. Bel lavoro amico, i bambini avranno il loro cestino, a forma di zampa di elefante. Tutto grazie a te. E, parla. Ehi amico, sono Vince. Ho bisogno di un altro favore. Non riesco a trovare nessuno. La città è impazzita, manco fosse uscito GTA V. Comunque, devi procurarmi degli esplosivi. Prova a comprarli dai talebani. È chiaro. Degli esplosivi dai talebani. Ma questo è tutto scemo. Quei pazzi svudellati, farebbero saltare in aria pure la loro mamma, pur di scoparsi le cento vergini immaginarie, del paradiso. Speriamo che la trattativa vada bene, altrimenti, ci sarà da cagare Corano e Nutella, per recuperarli. Mentre mi incammino per Torra Svora, vi saluto, perché la vita è breve. Ci rivediamo al prossimo episodio, o robe così. Ciao a tutti merdoni, a presto. Speriamo al prossimo episodio.